Avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro la droga che trasportava sul proprio automezzo. 500 chili di hashish nascosti dietro una finta parete ricavata con lastre di alluminio. Un autotrasportatore è stato bloccato e arrestato ieri sera nel napoletano dai carabinieri del nucleo investigativo di Torri Annunziata. L'ingente quantitativo destinato a rifornire i gruppi criminali della provincia di Napoli era contenuto in sacchi di juta e i panetti erano ricoperti di gomma per ingannare il fiuto dei cani antidroga. L'immissione sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro. L'autista dell'auto articolato è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.